Che bel panorama! È Londra? No, è Foggia! È qui il mio futuro. Accidenti! Quante possibilità avrei! Dipartimento di Scienze Agrarie. Lavorare in questi luoghi sarebbe davvero rock. Dipartimento di Economia. Certamente sarei un grande manager. Dipartimento di Giurisprudenza. Per affermare la verità. Area medica. Eccellente formazione per essere un infermiere o un medico dotto e affermato. Studi umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione, cultura e professionalità senza dubbio. Allora, hai deciso dove iscriverti? Scommetto che... Londra? No, ho scelto Foggia! Il sogno è diventato realtà. E adesso... UniFG mi apre le porte al mondo del lavoro.